Bentornati nel salotto più cool dell'R&B italiano, io sono Cuban, io sono Martino May, mettetevi comodi, rilassatevi, preparatevi un tè, anche se le temperature non sono proprio, perché sta per iniziare una nuova puntata di Gattini R&B. Se non clicchi su iscriviti e non metti un bel mi piace qui sotto, lo sai chi sei? Bentornati sul divano di Gattini R&B, grazie a Spazio Colosseo che ci offre i suoi locali. Spazio Colosseo è una realtà di cui sentirete parlare il prossimo autunno. Oh, era un po' di tempo, giusto? No, non fare i conti, no, di più. Dalla puntata di Asher, sì, quindi marzo. Beh, però abbiamo fatto un po' di cose. Sì, siamo state parecchio impegnate. Diciamo, le cose abbiamo fatto. Poi c'è stata anche l'R&B e i Coverfest, no? Quindi sempre per l'R&B. Ci siamo esibite come artiste e abbiamo fatto anche una puntata speciale di Gattini e abbiamo ospitato sul nostro divano quasi tutti gli ospiti, tutti gli artisti che si sono esibiti. Vabbè, non vi anticipiamo niente, e lo vedrete. Oggi parliamo di una cosa molto interessante, tra l'altro. È stato un tema che abbiamo affrontato sempre per vie traverse, no? De sguincio, come si dice a Roma. Esatto. Della serie. Ma che fine ha fatto? Parleremo di tre artiste che si sono trovate in un momento di pieno successo per poi finire nell'oblio, nel dimenticatorio. Sì, nell'oblio. Per noi nerd dell'R&B non sono finite nel dimenticatorio. Assolutamente no. Tanti ascoltatori si sono domandati, ma che fine hanno fatto? Parliamo di... Carrie Hilson. Tiara Marie. Emery. Io partirei con Tiara Marie. Forse in Italia è più famosa per gli scandali, con 50 Cent che non per la sua musica, ma ha avuto un importante percorso nell'R&B. Sembrava dovesse diventare la nuova Beyoncé. Lei nasce nel 1987 a Detroit e infatti viene influenzata da tutto il sound della Motown, più Monica, Brandy, Alia, eccetera. Fin da piccola si dimostra molto interessata sia alla musica, sia a far parte del mondo della discografia. E infatti si ritrova a 16 anni a fare un provino dal vivo per L.A. Reid, ai tempi, il capo della Def Jam. Qual era una delle etichette più famose distribuita da Def Jam in quel periodo? Rockefeller, DJ Z. Ci sono diverse interviste di I&R, di Def Jam, che descrivono il provino di Tiara Marie come un provino pazzesco. Dicono di lei che quando è entrata nella stanza aveva proprio l'aria da star, cioè tutti rimasero folgorati insomma dal suo talento, anche dalla bellezza perché è una bellissima ragazza, donna. Jay-Z fa firmare un contratto a Tiara Marie che entra a far parte del roster della Rockefeller, anzi lei viene definita proprio come la first lady della Rockefeller, tant'è che inizia a comparire nei video di vari artisti, tra cui un video postumo di Biggie. Anche 3LW. fa da modella per la Rock Aware, marchio appunto della Rockefeller, molto popolare tra le ragazze di quell'epoca. Insomma, Tiara Marie era next big thing, dicono no? Stavano puntando molto su di lei fino a che... Fino a che nel 2005 c'è il debutto di un'altra artista che viene dalle Barbados. Avranno già capito tutti di chi stiamo parlando. Esce Pondi Ripley di Rihanna. Death Jam lei, Death Jam l'altra, esce Pondi Ripley. Esce il disco di Rihanna che è Music of the Sun, ma esce anche il disco di Tiara Marie. Rockefeller presents Tiara Marie. Proprio per dare importanza a questa presenza femminile all'interno della Rockefeller, che fino ad allora era sempre stata un'etichetta con un immaginario un po' diverso dalla 18enne che canta Rambino. Il punto di svolta di questa vicenda avviene quando ai World Music Awards viene fatto un tributo alle Destiny's Child. Vengono scelte le tre star R&B dell'epoca, e cioè Tiara Marie, Rihanna e Ameri, di cui oggi pure parleremo come avevamo già anticipato. Quindi si esibiscono loro tre come se fossero le Destiny's Child, che all'epoca erano già diventate tre. Fanno una loro versione di Lose My Breath. Vabbè, dai, lo sappiamo tutti che insomma le parti da lead chi le ha sempre cantate. Beyoncé, anche se poi nella svolta diciamo di DC3 sono state un po' più clementi con Kelly e Michelle, però diciamo che la star è sempre stata Beyoncé e a chi viene affidato il ruolo di Beyoncé in questo tributo è proprio a Tiara Marie. La parte di Kelly la faceva Rihanna e a Ameri avevano affidato la parte di Michelle. Puntavano molto su Tiara Marie. Tra l'altro lei è bravissima, non so se l'hai vista, l'hai vista l'esibizione? Sì, sì, l'ho vista, l'ho vista. Anche Rihanna canta molto bene in quell'esibizione, devo dire. Ameri è pazzesca, scusate, però lo fa meglio di Michelle, il pezzo di Michelle. Vi consigliamo di andarla a vedere. Sono tutte e tre molto brave. Ho letto una cosa interessante, non mi ricordo se da qualche personaggio autorevole o qualcosa che ho letto tra i commenti così, che diceva è la prima volta che in una cover sono le artiste che cantano la canzone e non la canzone che cantano le artiste. Però perché questo è il punto di svolta? Mi direte perché a quel punto la carriera di Tiara Marie spicca il volo e invece no. A proposito di Destiny's Child, questo non è un rumor perché questo l'ha confermato anche Lady Reed dopo questo tributo alle Destiny's Child. Beyoncé andò da Lady Reed, gli parlò benissimo di Rihanna, disse è una star, gli mise questa pulce nell'orecchio. Sta di fatto che da quel momento in poi la Def Jam comincia a puntare su Rihanna che è diventata la star che conosciamo e su Tiara Marie non è stato più speso un dollaro. Prende una piega talmente brutta che nel 2009 viene praticamente terminato il contratto con la Def Jam proprio nella fase di stesura diciamo del suo secondo disco second round. Perché Beyoncé è sempre in mezzo? Eh vedremo che Beyoncé sarà, entrerà in tu, oh mio Dio, ora che ci penso oggi parleremo di tre artiste, nomineremo sempre Beyoncé. E quindi diciamo che dopo il 2009 la carriera di Tiara Marie è... Sì dopo il 2009 non c'è stato molto da parte sua o meglio, dopo il 2009 non si è sentito molto parlare di lei fino a un certo punto e poi ci arriveremo. Però comunque ha continuato a fare musica, ha continuato a fare dei mixtape, collaborazioni. Con Labo, con Timbo anche. Sì anche con Timbo, con Gucci Mane, Soulja Boy. Gli era presa un po' così insomma. Nel 2014 gli arriva una proposta da Mona Scott Young che è il produttore esecutivo di quel franchise di show triscissimi che io adoro e ho guardato in tutte le versioni. Quelle che si tirano le parrucche. Esattamente. Che è Love and Hip Hop. Love and Hip Hop è questo reality in cui vengono seguiti, seguite delle coppie, compagne, poi vabbè là si apre tutta una parente sulle main chicks, le side chicks. Baby mamas. Di rapper quasi in decadenza insomma. Oppure cantanti. Tutto ebbe inizio da Love and Hip Hop New York, quindi ambientato a New York dove c'era addirittura Jim Jones, Jewel Santana, Joe Biden pure, vabbè. Sto volando, volo. Il paese è stato spostato nelle varie città, ti lascio immaginare quello più pazzo quale può essere. Elena. Ovviamente che ha sfornato personaggi del calibro di Jocelyn Hernandez che non so se sei ben presente. Pochi di questi personaggi hanno avuto una carriera vera tranne Cardi B. Cardi viene da Love and Hip Hop New York. Però vabbè, lei era un personaggio già da prima. Io me la ricordo, la seguivo già quando lei faceva la stripper, stava su Instagram e non mi ricordo come avevo scoperto sto personaggio. Incredibile. Cubano piange. Lei aveva ancora il dente e faceva tutti i video tornando o andando allo strip club in taxi oppure proprio dai camerini con le altre tipe. Ti giuro non mi ricordo come l'avevo trovata, da uno di questi blog tipo Shade Room o che già la spingevano, insomma. Eccoci qua. Sì, insomma, Cardi è stato uno dei personaggi a cui invece ha portato fortuna questa roba. Nella maggior parte dei casi sono un po' artisti in decadenza che cercano di ritirare su la loro carriera facendo i reality. Poi vi lascio immaginare. Trash assurdo. In ogni episodio ci so parrucche che volano. Tutti che menano tutti. Bottiglie lanciate, tavoli ribaltati. Cioè letteralmente così sempre. E lei fa questa scelta di entrare a far parte del cast di Love and Hip Hop Hollywood. Messi. Veniva da nove anni di relazione con niente proprio di meno che Ray J. Chi è Ray J tra l'altro? Abbiamo una parentesi. Il fratello di Brandi. Anche lui ha una carriera come cantante. Conoscerete One Wish. Però è più famoso per un'altra vicenda più che per la sua musica. Kim Kardashian acquista la sua popolarità e le viene proposto in reality solo a seguito del leak del suo tape. Chi c'era in questo tape? Ray J. Perché stava con Ray J. Si dice che l'abbia fatto uscire lui sto tape. Quindi insomma personaggino piuttosto particolare. Particolare. Lei veniva da nove anni di storia con Ray J e decide giustamente di darsi impasto a Love and Hip Hop Hollywood pensando che potesse essere un modo per rilanciare la sua carriera. In realtà come prevedibile è semplicemente un mettere in mostra i suoi lati più deboli e in più sviluppa un problema con l'alcol. Fino a che nel 2017 proprio all'interno del programma quindi con le telecamere puntate in faccia le viene fatto quello che le americane chiamano intervention. Quando una persona ha una dipendenza da sbagliare se da l'alcol. Parenti, amici lo vanno letteralmente a prelevare per portarlo in rehab. Questo viene fatto da praticamente colleghi del cast di Love and Hip Hop Hollywood. Lei dirà poi nelle interviste che veramente lei non sapeva niente. Le è stata fatta un'imboscata da parte, non mi ricordo comunque, di un altro personaggio. Lei quando ne parla in interviste adesso dice non era una cosa che volevo. Molte persone l'hanno fatto semplicemente per avere un po' di visibilità all'interno del programma. Dice però effettivamente è stata la cosa migliore che mi potesse succedere. Infatti sembra disintossicarsi ma nel 2018 quindi l'anno successivo al suo ingresso in rehab il suo compagno di allora tale Akbar che faceva parte anche del cast di Love and Hip Hop si dice che abbia un s***tape, anche qua di nuovo parliamo di s***tape, non solo 50 cent che comunque sta sempre in mezzo, sta sempre lì con le sue mani piene di dita a postare, a commentare tutto. Poi pare che fosse anche amico di sto tipo, di sto Akbar e ha pubblicato questa foto tratta dal s***tape che in realtà non era una foto a luci rosse però comunque era tratta da... Quindi lei ha querelato 50 cent, sono andata in causa e lei è stata costretta a pagarle 30.000 dollari. Questo l'ha rispinta chiaramente tutta la vicenda, la vergogna, la cosa a bere. Ha fatto uscire un diss a 50 cent proprio dopo questo avvenimento. Quando sei così giovane e arrivi così vicino al successo poi è... La tronevano così con un... L'ha sfogato sull'anismo probabilmente. Io prima di andare avanti però mi voglio mangiare un dolcetto perché ancora non abbiamo toccato i dolcetti. La prossima artista di cui parliamo è Ameri. Nasce nel 1980 a Massachusetts. Ameri è un personaggio particolare perché addirittura si arruola nella nevi per potersi pagare gli studi a Georgetown, Washington D.C. Infatti si trasferisce a Washington D.C. dal Massachusetts dove conosce Rich Harrison. Brava. Che ha già prodotto per Mary J. Blige ad esempio. Con cui si trova. Sì, infatti. In particolar modo, no? Sì, loro raccontano che proprio lei comincia a cercare qualcuno che facesse musica. Le presentano Rich Harrison e lui le fa sentire le sue cose. Lei comincia a cantarci sopra e capiscono che... È un duo che può funzionare. Funziona, sì. Rich Harrison è un produttore di Washington D.C. che infatti riprende poi quei suoni tipici proprio della città di Washington, del Gogo Sound sottogenere famoso negli anni 60-70. È molto ritmato, con molte percussioni. Un'influenza che si sente molto, per esempio, per il primo singolo infatti. Prodotta da Rich Harrison. Non solo prodotta, ma anche scritta. Che si chiama Why Don't We Fall In Love nel 2002. Nel 2001 il suo nome aveva cominciato a girare perché aveva cantato il ritornello di un pezzo di Nas che si chiama Rule. L'anno successivo... Nel 2003, l'anno successivo, invece, esce il suo primo album, All I Have, che è prodotto e scritto interamente da Rich Harrison. In questa prima fase, Emery non ha molto, almeno nei credits non compare, non c'è mai effettivamente solo come cantante. Questo è un disco di quelli che, in un certo senso, segna un prima e un dopo. Perché da quel momento in poi, nonostante i critici furono scettici con questo disco, con All I Have, dissero che non era niente di originale, un po' casinista come tipo di sound, uscirono un sacco di canzoni di altri artisti prodotti da Rich Harrison che avevano proprio quel sound lì. E infatti, proprio nel 2003, esce un altro disco molto importante. È il primo disco da solista di Beyoncé, Dangerously In Love. Beyoncé aveva sentito Why Don't We Fall In Love di Emery e si era innamorata di questo sound, Beyoncé o chi per lei, insomma. Venne convocato proprio Rich Harrison per produrre dei brani del disco. Crazy In Love è un pezzo prodotto da Rich Harrison e se andate ad ascoltare Why Don't We Fall In Love, vi accorgerete che sono dei pezzi molto simili. Nel 2005 esce un altro enorme successo di Emery, che è One Thing, che la Columbia si teneva nel cassetto già da tantissimo tempo. Lo dice anche lei in alcune interviste. Andava sempre a bussare alla porta dei suoi referenti Columbia perché voleva far uscire questo pezzo. Ma loro continuavano a metterla in stand-by. Anche qua ritroviamo un altro personaggino un po' shady che risponde al nome di J.Lo. I don't know her. In quegli anni che succedeva, poi tra l'altro, Tommy Mottola utilizzava Jennifer Lopez per fare la guerra alla sua ex moglie ed ex artista, Mariah Carey. Quindi Jennifer Lopez era il centro degli interessi economici discografici di Tommy Mottola. La leggenda narra che la Columbia volesse dare questo pezzo a Jennifer Lopez. Emery e Rich Harrison liccano il pezzo, cantato di Emery, e a quel punto sono stati obbligati a farlo uscire come singolo di Emery. Rich Harrison, quindi, per, diciamo, sdebitarsi, dà una traccia di cui abbiamo parlato nella puntata scorsa di Usher che doveva essere un singolo di Usher, ma che poi è diventato un pezzo di Jennifer Lopez. Get Right. Se ascoltate Get Right, se ascoltate Crazy in Love, se ascoltate One Thing di Emery, ci sono molte somiglianze, molti similitudini. Questo è stato un po' quello che ha fatto crollare la carriera di Emery. Quello che era il suo tratto distintivo, il suo sound, che era stato creato insieme a Rich Harrison, a un certo punto diventa praticamente alla portata di tutti. Perché l'interesse di Rich Harrison era quello di far arrivare il suo sound a più persone possibili. In questo modo, però, aveva un po' omologato lo stile di tutti gli artisti con cui aveva collaborato. Veniva sempre meno, ovviamente, il lavoro che aveva fatto con Emery, no? Da quel momento Emery non fa più nulla con Rich Harrison. Esce un album nel 2007, Because I Love It. Proprio quell'anno, il suo rapporto con la Columbia, etichetta di Sony Music, ricordiamo, finisce. In un'intervista a The Breakfast Club nel 2016, lei dice che è stato un mutual agreement, quindi è stata una decisione consensuale da tutte e due le parti. Quando Charlemagne, non so se avete presente voi The Breakfast Club, ma è questo programma radiofonico condotto da Charlemagne, DJ Envy, e allora c'era Angela E, da poco è andata via, adesso c'è Jesse Lerious, che non mi piace, tra l'altro, ma vabbè. Charlemagne, che è noto per essere un provocatore, le chiede proprio perché pensi che la tua carriera sia finita. E lei, che era tanto perché non rilasciava un'intervista, e dice che secondo lei il problema è stato nei continui cambi di etichetta e nel fatto che la gestione del suo progetto è stata un po' così confusionaria. L'anno precedente, nel 2015, era tornata a collaborare con Rich Harrison per questo singolo Out Loud, dopo tantissimi anni. Appunto nel 2016, in questa intervista di Breakfast Club, comincia a introdurre la sua nuova occupazione. Ha iniziato a scrivere dei racconti pubblicati su diverse raccolte. Adesso ha proprio un canale di YouTube che si chiama Emery Books Club. In cui recensisce dei libri. Addirittura ha intervistato Margaret Atwood, l'autrice canadese che ha scritto Il racconto dell'Ancella, il romanzo da cui poi è stata tratta la serie. Tra l'altro molto bella, consigli per gli acquisti. Io la seguo Emery su Instagram e devo dire che appoggia tantissimo la causa palestinese. È una degli artisti che si è più esposta. Si occupa, sì, principalmente di libri e di attivismo. E' l'inniore. Adesso arriviamo a una delle mie preferite. Siamo arrivati alla terza artista di cui parliamo oggi. Che spacca, sempre spaccato. Sempre molto sottovalutata. È estremamente... Intanto diciamo chi è. Carrie Hilson. È stata un'autrice per un sacco di artisti. Giusto così. Per citare alcuni titoli, per farvi capire di chi stiamo parlando. Icebox di Omarion. Kimmy Moore di Britney Spears. Incredibile. E ci sono anche i suoi vocals nel ritornello. Se ci fai caso, ci hanno lasciato i suoi cori della demo. Parliamo di una che nel mondo della discografia americana si era già fatta ben conoscere. Ha già lasciato una bella impronta comunque. Uh, come no. Ma partiamo dalle origini. Nasce nel 1982 a Decatur. Georgia. Una delle zone periferiche, diciamo, della città metropolitana di Atlanta. Racconta di essere nata in una famiglia, comunque della middle class. E che i suoi genitori l'hanno sempre incoraggiata a fare un sacco di cose. Quindi vari sport, pianoforte. Finché lei chiede a sua madre proprio di convertire le sue lezioni di piano in lezioni di canto. Perché voleva cantare. Un'altra di quelle che fin da quando era piccola non solo è iniziato ad amare la musica, ma l'ha iniziata a studiare. Intanto è che il suo primo, come si dice in gergo, placement, cosa vuol dire? Spieghiamolo. Cos'è un placement? Quando riesci a piazzare un brano che hai scritto... Sì, un brano che hai scritto da un artista, quindi da autore. Fai sì che un artista canti la tua canzone, pubblichi la tua canzone, insomma, cantata da lui. Arriva il suo primo placement nel 2001 con una cantante pop giapponese di 95. Diventa una voce conosciuta quando nel 2004 esce un pezzo famosissimo di Exhibit, Hey Now. Hey Now, Hey Now. Lei compare anche nel video. Anche se ancora nessuno sa bene chi è, cioè le lavorano dietro le quinte, fa le sue cose, ma ancora non esce fuori. I suoi successi più grandi, quelli di cui parlavamo prima per Mary J. Blige, per Britney, eccetera, eccetera. Li scrive in un'epoca che va dal 2005 in poi, quando conosce un produttore famosissimo che è Paolo Dadon, che la introduce ad altri producer e scrittori autori, formando questo collettivo di produzione e scrittura che si chiamava The Clutch. Carrie entra a far parte di The Clutch, Paolo la presenta qualche anno dopo a Timbaland, che prende proprio sotto la sua ala protettrice Carrie Hilson e la fa diventare un po' la sua protetta. Tant'è che nel 2007, quando esce il Shock Value, un disco da produttore di Timbaland, la piazza un po' ovunque all'interno della tracklist del disco, il singolo più famoso di quel disco è The Way I Are, no? Proprio la voce di Carrie Hilson. C'è un altro singolo estratto da quell'album che è Scream con Nicole Scherzinger e Carrie Hilson. Compare sotto varie forme di scrittura o cori, insomma, in altre tracce del disco e comincia una collaborazione attiva con Timbo. Sì. Nel 2008 scrive per Usher, Love in this Club. Oggi quando abbiamo parlato di Tiara Marie e di Emery abbiamo definito dei punti quasi di svolta, no? Nelle carriere di queste artiste. È proprio dal 2008, da Love in this Club, che inizia questo punto di svolta non positivo purtroppo nella carriera di Carrie. Perché Love in this Club esce la versione quella ufficiale e, se vi ricordate, esce un remix dove c'è anche Beyoncé. Ora, Carrie Hilson compare nei crediti sia della versione originale che del remix. La leggenda narra che non sarebbe dovuta essere il featuring sul remix, ma pare che all'ultimo momento Usher, per questioni politiche, chiamiamole così, abbia deciso all'ultimo di sostituire Carrie Hilson proprio con Beyoncé. Questo evidentemente non è piaciuto molto a Carrie, tant'è che in un'intervista qualche tempo dopo, quando l'intervistatore le chiede se Beyoncé avesse ricantato la sua demo, tale quale l'avesse insomma un po' cambiata, lei risponde che era pressoché identica, anche un po' piccata da questa cosa. Da qui inizia un po' una faida con Beyoncé e, purtroppo, per quanto Carrie potesse essere un'artista molto valida, un'autrice pazzesca, una produttrice, cantante, non puoi vincere contro l'internet di Beyoncé. Inizia una parabola così, un po' drammatica. Nel 2009 esce il primo album di Carrie Hilson, che si chiama In a Perfect World, che è prodotto in parte da Apollo da donna e in parte da Timbo. Se non sbaglio, il primo singolo estratto fu Turnin' Me On, con Lil Wayne. Escono una serie di remix di questo singolo e viene liccata una versione con una strofa di Carrie piuttosto... Un po' particolare, eh? Sì, un po'... Poi aveva lei quell'attitude un po'... Sì, lei aveva quest'attitude un po' rap, un po' sfrontata. Sì, il suo R&B è sempre stato un R&B anche pop, però, diciamo, nei testi e nell'attitudine sempre un po' cazzuta, possiamo dirlo. Posso dire che... Manny Long un po'... Sì, pure a me me la ricorda un pochino. Mi ricorda un po' Carrie. Anche per la storia. Sì, hanno pochi anni di differenza e anche Manny Long è stata... L'autrice per tanti e di tanti successi. Sì, è stata dietro le quinte, solo che Manny Long ne è riuscita indenne. Per ora. Quando non si metterà in mezzo Beyoncé, proprio. Però sì, me la ricorda moltissimo. Vero, anche nello stile della scrittura, sì, sono d'accordo. Il suo stile è molto diretto, anche le melodie, comunque... Mi piange un po' il cuore raccontare la sua storia, mi fa un po' così. Stavo testicato. Quindi in questo pezzo sembrano esserci riferimenti più o meno espliciti a Beyoncé. Che è? Dià. Cita, to the left, to the left, irreplaceable, dice you can dance, she can sing, but she better have some babies, far riferimenti al fatto che lei abbia scritto delle canzoni a questo nemico immaginario e quindi i fan di Beyoncé cominciano a pensare che, vabbè, dopo to the left, to the left, che ce l'aveste con lei. Anche i fan di Sierra cominciano a trovare dei riferimenti in questa strofa. Morale della favola, lei si fa nemici i fan di Beyoncé e i fan di Sierra. E sui fan di Sierra non ci giurerei, ma su quelli di Beyoncé posso abbastanza metterci la mano sul fuoco, sul fatto che siano agguerritissimi. E quindi lei in questo modo ha firmato la sua condanna a morte. Questa è stata la chiave della storia di Gary Heels. Esce il suo secondo album nel 2010 che si chiama No Boys Allowed, album molto bello che vi consigliamo di ascoltare, ma purtroppo ormai l'attenzione del pubblico non era più tanto sulla sua musica quanto sul pettegolezzo, su questi rumors, quindi su questo possibile beef con Beyoncé, con Sierra, a tal punto che lei è costretta ad andare in live insieme a Sierra da casa sua per mostrare al pubblico e ai fan che non c'era cattivo sangue tra di loro e che fosse tutto quanto ok. Per quanto riguarda Beyoncé lei fa altri passi falsi durante un red carpet in cui le porgono questa copia di Juicy Mag, che era un magazine dell'epoca che parlava di pop, hip hop, eccetera. Le chiedono di posare con la copia del giornale. Lei guarda chi c'era sulla copertina della Beyoncé e dice proprio No, I can't. Questo video chiaramente negli anni d'ora di YouTube ha cominciato a circolare. Arriviamo al punto in cui lei viene minacciata dai fan di Beyoncé, minacciata personalmente. Ogni cosa che lei postava veniva inondato di emoji di api. Vengono boicottate le sue uscite. Ha provato a smentire questo poi ci dicendo che appunto si trattava di un nemico immaginario ma ormai il danno è stato fatto. Non è bastato neanche il racconto proprio di Polo da Don, che era il produttore poi della traccia, che è testimonia di come in realtà Carrie Hilson non volesse neanche far uscire... Infatti tant'è che non è uscita perché è stata liccata. No, certo. Ma fu Polo che insistette per farle registrare questa strofa. La fecero ascoltare ad altre persone che commentarono dicendo che forse sembrava un po' troppo un riferimento appunto a Beyoncé, a Sierra, e per quello decisero poi di non farla uscire. Era stata un po' sciocca dare retta a Polo. Storia confermata da Polo e anche da Timbo, da Timbaland in un'intervista in cui dice proprio che fu Polo a spingere per questa cosa. A questo comunque non è bastato perché appunto ormai il danno era stato fatto e lei è stata marchiata a fuoco. Le sue esibizioni con le arene mezze vuote diventano meme e quindi lei sparisce totalmente dalle scene, cade proprio in depressione, lo confesserà poi nelle interviste più tardi, nel 2019 se non sbaglio, 2018. inizia una carriera come attrice in diversi film per la tv perché lei comunque aveva studiato anche recitazione, ma non fa uscire più musica. Ha fatto pure un paio di scivoloni, niente male, un po' complottista, pubblicava cose complottiste tipo dicendo che la causa del covid era la rete 5G, quindi diciamo che si è fatta pure un po' a prendere in giro. Vabbè comunque posso dire, per scrivere così... Un po' dici un po' bagata. Oggi sono storie tristi. Sì, oggi sono storie tristi. È incredibile. Ci voleva, secondo me era una parentesi doverosa per queste tre cantanti. Fondamentalmente, Carilson oggi continua a fare dei tour, magari sai quelli con vari artisti tipo Marion, pure loro un po' spariti dai radar, però ancora comunque conosciuti. Fa i suoi film in tv, economicamente non credo che possa lamentarsi. Esattamente. La nostra Emery pure si fa gli affari suoi, scrive i racconti, c'è il suo books club. Sai i libri. Sta il libro, il topo da biblioteca. Posso dire. Ma sì, ma lei lo voleva, per esempio nel caso di Emery è proprio lei che dice che non riusciva a stare ai tempi delle etichette perché se lei aveva della musica la voleva far uscire. Già era, capito, proiettata verso la cosa nuova e quindi questa cosa di dover sottostare le tempistiche delle case discografiche la demoralizzava. Dice che è molto più contenta adesso che fa uscire la musica quando le va, fa un altro lavoro e pazienza. Nel caso di Emery non lo so perché è un caso un po' più particolare, c'è di mezzo anche una differenza, quindi è sicuramente una storia più tormentata. Però di base abbiamo l'esempio di Emery che ci dimostra che alla fine questi personaggi che sembrano arrivare quasi nell'Olimpo e poi non li vediamo più e pensiamo che necessariamente debbano aver fatto, tra virgolette, una brutta fine, no? Magari non è sempre così, non è necessariamente per forza così. Sì, perché magari non è la tua, poi, il tuo mondo, no? Quello lì, se vedi le interviste di Emery, per esempio, ti rendi proprio conto che è di una pasta diversa, non so come dire. Preferisce stare dietro le quinte, cioè fare musica, pubblicarla, piuttosto che capire Che essere un entertainer. Con il racconto della vita di Carrie Helson chiudiamo. Questa finestra è interessante. E questa puntata di Gattini R&B. Siamo arrivati ai saluti. Io, Martina May, Cuban, vi diamo appuntamento prestissimo. Assolutamente sì. Perché tra l'altro usciremo con la puntata speciale dalla R&B The Cover Fest. Seguiteci perché ci saranno novità molto importanti per Gattini, la R&B, non c'è niente. No, 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 no. Se ti è piaciuto questo video, metti like e iscriviti al canale. Ah! Importantissimo! I nostri contatti. Grazie. Maestro. Sempre perfetta. Martina May, Cuban, Gattini R&B. Dal salotto più cool dell'R&B italiano è tutto. Alla prossima! Ciao! 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 Grazie.